Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa del 17 agosto. Ovviamente spero che molti di voi, anzi molti di voi, hanno visto la mia zuppa serale ieri sera a caldo sulla chiusura delle discoteche. Oggi la situazione è anche peggiore, perché se vai a vedere quello che scrivono i giornali ti rendi conto come siamo nella follia più totale. Il governo chiude le discoteche, è il titolo del Corriere della Sera. Le mascherine obbligatorie nella Movida. E in realtà poi quando vai a vedere se sono davvero obbligatorie queste mascherine nella Movida, tu dici ma dov'è la Movida, in quali giorni è la Movida, chi dovrà decidere la Movida? E scopri che dalle 18 alle 6 di mattina ci saranno dei posti in cui ci sono rischi di assembramento e lì è obbligatoria la mascherina. Secondo questa idea folle, tra le 18 e le 6, cioè è il criterio burocratico per cui si combatte il virus con la burocrazia. Dalle 18 alle 6 e nelle zone in cui sono possibili gli assembramenti che verranno stabiliti, immagino io, con un decreto del Presidente del Consiglio oppure con un decreto o un'ordinanza regionale. Ecco, se noi pensiamo di combattere la malattia così pensiamo che noi siamo esattamente quello che siamo, soltanto dei codici fiscali, cioè delle persone che non hanno nessun tipo di ragionamento. Non possiamo, come dice tutti quanti, a partire da Speranza, non possiamo inficiare i sacrifici fatti nei mesi passati dagli italiani. Quindi la logica è che siccome ci hanno messo gli arresti domiciliari per tre mesi in questo paese, due mesi in questo paese, oggi devono ridurre le nostre libertà, perché questa è la logica, si riducono alcune libertà perché ci hanno arrestato ieri. Non so se vi è chiaro la logica, cioè dopo averci arrestato non possiamo inficiare tutti gli sforzi fatti, perché questa è la logica straordinaria, ma che dicono nei salotti? Il 90% della persona non la pensa come me e continua a dire ma che te ne frega a te delle discoteche, 4 bilioni di affari, di giro d'affari. E questi cazzoni non si rendono conto, e lo dico con grande serietà, che la libertà si perde a piccoli passi. Se a me delle discoteche ormai sono 50 anni e non ce vado più, ho adorato le discoteche, vorrei parlare con Mr. Franz più che con Speranza nella mia vita, ma il punto è un altro! Il punto fondamentale è che prima ci sono le discoteche, poi ci sono le mascherine, poi ci saranno le auto. Abbiamo fatto delle specie di enormi, a me mi sta sulle balle questa Martani, ma se una si deve pensare che deve avere l'obbligo della mascherina in macchina, beh ci arriveremo! E la psicopolizia? Io non difendo le discoteche per difendere soltanto in 4 miliardi la libertà delle discoteche, ma difendendo il principio, che tanto le discoteche non mi riguardano, e i pub non mi riguardano, e poi i supermercati non mi riguardano, le banche non mi riguardano, le tassazioni non mi riguardano, è tutto così! E tanto voglio dire, Speranza dice, non possiamo inficiare gli sforzi fatti, quindi in virtù di due mesi sbagliati di lockdown, fatto come avevo fatto in Italia, oggi è tutto possibile! La trovo straordinaria! E poi, se volessimo essere polemici, come fa oggi il tempo, le discoteche chiuse, sbarchi a go-go! E allora mi dovete spiegare una cosa, cioè noi limitiamo le libertà degli italiani e dei discotecari, ma non limitiamo le libertà dei pregiudicati tunisini che vengono nelle nostre isole, perché lì invece ci vuole il rispetto, l'umanità, perché se no nei loro confronti l'umanità per i discotecari non c'è, ma per i trafficanti di uomini c'è, perché possono portare le persone che scappano dalla Tunisia, non dal Bangladesh, dalla Tunisia! Quelle vanno bene, perché il principio è assurdo! È tutto così, è tutto incredibile! Vedete? Ma poi l'altra cosa straordinaria è che si fa una specie di costruzione, ve lo dico subito, una costruzione drammaturgica che è una grande messa in scena, se non fosse uno che la pensa come me, secondo me oggi perché resta un libertario, una grande messa in scena santoriana, e quindi nelle prime pagine dei giornali, così come fosse, non so, vi ricordo, le vecchie battaglie di Santoro contro Berlusconi, vedi, bimba di cinque anni intubata! Io sono disperato per i genitori e per questa bambina di cinque anni intubati, immaginatevi voi che cosa possa voler dire una bambina di cinque anni intubata, ma perché mettiamo la storia di una bambina di cinque anni intubata all'interno delle cronaca sulle chiusure delle discoteche, lo fanno il Corriere, lo fanno Repubblica? Perché questa ragazza ha una sindrome emolitico, una cosa gravissima che colpisce anche i polmoni, e anche il Covid, e questa è la storia italiana, per cui in realtà il medico stesso dice le uniche due cose sicure che sappiamo di questa bambina che è molto grave e che ha il Covid, ma la relazione tra le due cose non la conosciamo, quindi noi che cosa facciamo? Noi giornalisti che dobbiamo dire, vedete, ci sono le bambine di cinque anni pure che stanno per morire, purtroppo io mi auguro di noi, auguro alla famiglia, a questa bambina che non gli succeda nulla, ma capite la strumentalizzazione, si usa la bambina di cinque anni nelle pagine delle chiusure delle discoteche per dire guardate, anche i giovani si ammalano, ma è talmente scoperto che io non capisco perché quelli che mi criticano tanto non riescano a capire che cavolo c'entra una bambina di cinque anni che purtroppo sta in terapia intensiva con tutta questa vicenda, c'entra, perché questo è il modo per poter dire ragazzi non andate in discoteca, nel frattempo se uno volesse vedere i numeri che gli stessi giornali oggi non danno con grande enfasi, e sapete perché non la danno con grande enfasi? Perché purtroppo i contagi, purtroppo per loro, sono scesi a 479, oggi i contagi hanno portato a 56 persone in terapia intensiva, cioè non oggi, nell'ultimo periodo ci sono 56 persone in terapia intensiva che vuol dire persone gravi ma che possono comunque non essere compromesse, 4 morti, sapete quanti sono i morti ieri, quanto sono stati ieri morti, me lo ricorda nel miglior pezzo di oggi, cioè Capezzone che sta veramente in forma in questo periodo, sapete quanti morti purtroppo ci sono stati ieri per cancro? 500, sapete quanti morti ieri ci sono stati per infarto? 400, sapete quanti morti ieri ci sono stati in Italia? Circa 1700, sapete quanti morti per covid che vengono dai mesi scorsi? 4, gli stessi che probabilmente avremo in novembre e dicembre per influenze normali, allora io dico questo giustifica la bambina di 5 anni intubata? L'Italia è come a dicembre, cioè Repubblica dice che l'Italia è come a dicembre, se noi non agiamo tra due mesi ci troveremo a subire un nuovo lockdown, questo è il titolo di Repubblica, ma non calcolano che rispetto a dicembre ci abbiamo alcune cure, i medici sanno come affrontare, ci sono nuove terapie intensive, c'è la possibilità di, come possiamo dire, di molte più persone che questa mattina se la sono presa, come il sottoscritto che è in cura lo Spallanzani, ringrazio gli amici dello Spallanzani che si rendono conto che il mio sangue oggi è tale per cui non me la posso prendere, è come me qualche milione di persone in Italia, no, è come siamo come a dicembre, notizie di Repubblica, beh poi qualcuno in questo buio parla, beh intanto incredibile, io lo voglio, toc toc, Forza Italia, svegliati, perché se Forza Italia continua a pensare, come ho letto oggi sul Corriere della Sera, che ha ragione il governo a chiudere le discoteche, oltre a non capire assolutamente nulla, sono sconnessi ma totalmente con il loro elettorato, vivono nell'aldilà, vivono, continuano a vivere nell'aldilà questi di Forza Italia, non solo per dividere il centrodestra, ma questo chi se ne frega, tanto ognuno va per la sua strada, ma come cazzo si fa un partito moderato e liberale poter dire che è d'accordo con questa manovra del governo, sapete cosa, si cagano sotto anche loro, io sono, cioè un tempo questo era un partito liberale, l'hanno affidato, ormai voglio dire quell'altro è diciamo un sovranista con purtroppo una politica economica Salvini, diciamo, non esattamente e non sempre liberale, certamente più liberale di Giorgia Meloni, che comunque ha una posizione almeno molto coerente, questi qua, questi di Forza Italia, uno va da una parte, uno va dall'altra, lo capisco perché i parlamentari se ne vanno, se questi sono d'accordo sulla chiusura delle discoteche, ma questi ma dove vivono? Io voglio chiedere, toc toc, il mio amico Andrea Ruggeri, davvero pensa che questa roba, che lo conosco e so bene come la pensa, perché poi Andrea Ruggeri ieri ha fatto un video, che oggi grazie al cielo qualche giornale lo ha ripreso senza citarlo, sul grandissimo caos di questo governo, il grandissimo caos di questo governo, che è il caos per il quale ti ordina, dovete tornare dalla Grecia e dalla Malta, vi dobbiamo fare tutti i test, poi dopo loro stessi non sono in grado di approntarli, ne è a Fiumicino e vi racconta questa gincana di casini che c'è per fare i test che il governo ci ha obbligato, e se tu non fai il test cosa succede? Se non fai il test devi stare chiuso a casa, esattamente quello che dicevamo in una zuppa qualche settimana fa, loro ti danno un obbligo, ti dicono se fai assolvi quell'obbligo sei libero, non ti permettono di assolvere quell'obbligo, quindi non sei libero, quindi sei agli arresti domiciliari, non so se la cosa è pacifica, cioè vittime della burocrazia che ci tiene a casa, ma la burocrazia sapevano perfettamente che ci sarebbe stata, esattamente la stessa cosa che avrà con le scuole, fanno le gare dicendo compriamo 3 milioni di banchi, 2,4 milioni di banchi, è del tutto evidente che non ci saranno i banchi a settembre, e quindi questo sarà uno dei problemi veri di cui parleremo tra poco. Toti oggi, l'unica intervista, peraltro viene da Forza Italia, quindi leggessero quello che dice Toti oggi i suoi ex compagni di partito, dice ma ragazzi siete scemi, bisogna assolutamente pensare di preoccuparsi della cura della malattia, se limitiamo dei diritti ai cittadini, parla delle discoteche, non mi sembra che Toti sia uno, hai presente la febbre del sabato sera, quello che si faceva i danzette, non mi sembra che sia vestito tutto da bianco come John Travolta che entra al covo e si fendono le folle come il Mar Rosso, ma Toti è presente in una regione che vive di turismo, tra l'altro neanche una delle più grandi, e dice ragazzi ma siete scemi, possiamo limitare i diritti delle persone, dice Toti, ma in realtà se ci preoccupiamo delle conseguenze sanitarie che ne derivano, ma io ho fatto 200 terapie intensive in Liguria, ne sono utilizzate 3, non dite stupidaggini perché se no qua facciamo una grande pasticcio. Toti lo leggesse qualcuno dei loro amici moderati un tempo, ma io sono furibondo perché qua se noi non ci mettiamo in mente che non stiamo difendendo le discoteche, noi stiamo difendendo le nostre libertà, a me delle discoteche, lo dico ai miei amici distocchioteari, mi interessa in maniera ancillare, difenderei anche Belzebù se facesse un'attività legale e che venisse chiusa per una specie di ordinanza di cui in domenica di agosto si riuniscono bocce e compagnia cantante, ma è difficile dirglielo, Linus su Repubblica, che a favore della chiusura delle discoteche, affronta un altro tema, e mi dice ma scusate ma come cacchio vi è venuto in mente di riaprirle? Cioè voi pensate che si possa andare in un'econoteca senza bere del vino, dice Linus, ma voi aprite le discoteche che volete che succeda? E poi mi ha accorgito, oh abbiamo aperto le discoteche e ci sono gli assembramenti, beh era una roba straordinaria, tra l'altro non è vero che le discoteche sono aperte perché quelle al chiuso solo restano chiuse, erano quelle all'aperto che vengono aperte, e giustamente un gestore di discoteche dice una cosa veramente semplice, ragazzi ma che abbiamo fatto, il divieto di ballo? Perché adesso sicuramente quello che avverrà è che si continuerà a ballare ma non in strutture organizzate come quelle delle discoteche, il solito concetto del proibizionismo, toc toc, forse Italia la conosci sta roba o non la conosci, dicono che sono a favore della manovra del... Io vorrei veramente vedere dei deputati di Forza Italia che dicono, oh ragazzi ma che siete scemi, ma questa roba del governo non per le discoteche, ma per un principio liberale che dovrebbe essere nel nostro DNA è una minchiata, voglio vedere se non ci pomeriggio attiva qualcuno di loro. Nel frattempo l'altra cosa che vi volevo dire è il ragionamento di capezzone, ma il ragionamento di capezzone è la cosa migliore della giornata, perché è del tutto evidente quello che lui dice, e cioè lui dice una cosa molto semplice, beh si crea la paura, e l'abbiamo già visto, poi si criminalizza qualche categoria, i runner, quelli dei cani e adesso i discotecari, e poi si fa la grande corsa al MES, questo è un suo addendum, io sono a favore del MES, ma questo non è importante, ma è la procedura. Paura, si criminalizza, si dice che c'è necessità del MES, oggi Zingaretti dice in una lettera perché non si fa intervistare dalla stampa che dobbiamo subito prendere il MES, io sono d'accordo con lui, ma la procedura che racconta capezzone è esattamente questa, criminalizzazione, richiesta del MES e poi si dirà, ragazzi, anche sulla scuola è colpa vostra se non può iniziare, colpa dei giovani irresponsabili, ed è esattamente quello che succede, perché Speranza oggi dice da qualche parte, ragazzi, lo dice la Repubblica, i giovani ci aiutino, se no è il rischio l'inizio della scuola, esattamente quello che lo scrive sulla verità, ed è esattamente quello che leggendo tutti gli altri giornali si sta costruendo, la paura, c'è la bambina di 5 anni, la criminalizzazione, i giovani che vanno in discoteca, il MES che è necessario, Zingaretti che lo dice alla stampa, e la scuola che per colpa dei giovani non riprenderà, Speranza su Repubblica, tutti i pezzettini, non di un complotto, io non credo ai complotti, tutti i pezzettini della nostra libertà che va all'inferno, e quelli dicono è giusto la discoteca, beh, nel frattempo che cosa sta succedendo? Mentre questa libertà, dal mio punto di vista, che è la libertà anche di poter dissentire, va all'inferno, a che fine è fatto la roba delle fake news di Palazzo Chigi? Chissà se esiste ancora, beh, insomma, nella libertà che va all'inferno sta avvenendo anche una questione politica fondamentale, cioè l'alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, perché se le elezioni del 20 settembre, se si terranno, il rischio è che il centrodestra vinca 4 a 2, è un rischio che se questi continuano a dire queste minchiate, cioè se io devo votare Forza Italia che vuole la chiusura delle discoteche o devo votare Zingaretti che la applica, beh, insomma, allora vado sull'originale, no, non l'ho detto, non l'ho detto, però avete capito la logica? Beh, comunque sia, io non penso che Fitto, non penso che quelli che guidano le regioni la pensino come Lopalco, io non penso che, e ho letto che Toti la pensi come Conte, grazie al cielo, ma comunque è Speranza. Comunque, questa alleanza PD e 5 Stelle è veramente una roba ridicola per quello che il PD, i 5 Stelle avevano detto del PD e oggi ne parlano tutti i giornali, ma Aldo Cazzullo sulla Corriere della Sera, intelligentemente dice, toc toc, ma quello che invece il PD aveva detto nel Movimento 5 Stelle, cioè il PD e le sue 23 querele che aveva fatto il Movimento 5 Stelle dicendo che erano, perché non voleva starci a sentirsi dire che era il partito di Bibiano, dove sono finite? Insomma, dice Cazzullo, anche il PD deve fare i conti con le sue idee molto poco chiare, Mauro invece su Repubblica celebra questa alleanza e dice la vecchia talpa della politica scava nel terreno sempre più arido del populismo, con questo gergo lirico vuole di Movimento 5 Stelle è ritornato nell'alveo costituzionale, ve lo dico io, adesso si può parlare con Condi Maio e compagni, Zingaretti vi ho detto scrive una lunga lettera alla stampa che dice che è giusta l'alleanza con il Movimento 5 Stelle se no ci sarebbe stata una deriva salviniana a Bolsonaro e anche Belzebù probabilmente, Gori l'unico all'interno del PD che dice ma che siete scemi, ma ci avete tutto il contrario, parlamone, nel frattempo oggi ci sarà l'esordio di Draghi alla comunione e liberazione e questo sarà il dato politico più importante e sulla Bielorussia il pezzo più bello è di Giordano Bruno Guerri che dice attenti perché i capi russi dal Cinquecento hanno sempre pensato che quello fosse terreno loro, c'è molta puzza di quel 68 di Praga in cui in realtà i cararmati russi fecero quello scempio della democrazia che obiettivamente in quell'Unione Sovietica non c'era e probabilmente anche oggi non c'è in quella parte del mondo. Bene, vi do un grande abbraccio, ci vediamo come sempre più tardi, buonasera, buongiorno.